Per Francesco Ricchiuti, ex portiere del Montenero in eccellenza, ma soprattutto sei stato portiere a Castelfidardo due anni fa, pronto per la nuova stagione, ti stai allenando, per tenerti pronto, ti stai allenando con il Termoli, ma per tenerti pronto per una chiamata importante, perché tra l'altro tu oramai sei quasi marchigiano d'adozione. Sì, ringrazio il Termoli, il mister che mi sta dando l'opportunità di allenarmi qui per tenermi pronto e aspettiamo una chiamata, speriamo importante, come hai detto tu. Senti, tu sei uno di quei pochi ragazzi che sono riusciti a fare il salto, non solo di categoria, ma soprattutto uscire fuori dalla nostra regione, che impatto hai avuto dall'uscire dal Molise, trovarti soprattutto in realtà importante come Castelfidardo in Serie D? No, sicuramente la Serie D è un ottimo campionato, è stato un anno veramente bello sotto tanti punti di vista, anche tornare qui a Termoli, Agnone, Campobasso è stato veramente bello per ritrovare campi che conoscevo da un altro punto di vista, rivederli sotto un'ottica quasi da professionista. Senti, hai acquisito esperienza e questo è sicuramente importante. Sì, l'esperienza sì, giochi con giocatori importanti, li vedi tutti i giorni in allenamento, ti alleni con loro, impari tante cose e diventi piano piano anche un giocatore da Serie D insieme agli altri giocatori che hanno calcato anche campi più importanti. Hai fatto quasi il professionista, però sei riuscito ad abbinarci anche il lavoro che sarebbe lo studio per te, facendo tanti sacrifici. Sì, sto studiando, speriamo di finire presso gli studi così da iniziare il lavoro e potermi anche togliere qualche soddisfazione in più sul campo. Proseguire nelle Marche con il Molise nel cuore. Certo, speriamo appunto che arriva una chiamata importante per continuare a inseguire il sogno del pallone insomma.